All'indomani dello sciopero del 30 maggio sindacati e forze politiche stanno iniziando a ragionare sui possibili scenari futuri. Le forze politiche sono impegnate soprattutto sul versante del decreto 36 su reclutamento e formazione e stanno cercando di trovare qualche possibile soluzione per rispondere alle richieste del mondo della scuola senza però far saltare gli instabili equilibri interni alla maggioranza. Alcune modifiche al decreto sono ormai quasi sicure come per esempio quella della eliminazione della prova a crocette nei concorsi a cattedre. Tutto da discutere il capitolo sulla abilitazione automatica per i docenti con tre anni di servizio a tempo determinato come molti vorrebbero. È possibile invece che nelle commissioni riunite affari costituzionali e istruzione che stanno esaminando il provvedimento si riesca ad affrontare almeno in parte la questione delle modalità di copertura delle spese per la formazione continua e per l'incentivo da garantire ai docenti che decideranno di affrontare i percorsi triennali. Attualmente il decreto prevede che i costi vengano coperti con la riduzione di quasi 10.000 cattedre a partire dal 2026 ma su questo tutti i partiti hanno già detto di no. Molto complicata la vicenda contrattuale. Ormai è chiaro che le risorse economiche sono modeste e potranno servire per aumenti di 100-105 euro a testa al massimo e così a questo punto è probabile che l'interesse dei sindacati si sposti sugli aspetti normativi. Un tema caldo è quello della formazione in servizio per la quale oggi non esistono regole certe. È vero che già la legge 107 del 2015 parlava di formazione obbligatoria ma poi i sindacati hanno continuato a rivendicare il principio del diritto dovere alla formazione. Potrebbe poi entrare finalmente nell'articolato contrattuale una sezione dedicata alle norme sul disciplinare dei docenti come previsto dallo stesso atto di indirizzo. La questione è importante perché oggi per il personale ATA esiste una regola contrattuale che prevede la possibilità che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare chieda di concordare la sanzione con l'amministrazione. Per i docenti questa possibilità non esiste perché l'intero procedimento disciplinare oggi è regolato dalla legge e non dal contratto. Già per il contratto del 2018 l'atto di indirizzo prevedeva la regolamentazione del procedimento disciplinare ma alla fine gli stessi sindacati preferirono non intervenire e lasciare le cose ferme. Anche se per la verità in molti casi la sanzione concordata potrebbe evitare ai docenti di dover ricorrere al giudice del lavoro con i costi che questo comporta. Vedremo se questa volta cambierà qualcosa. Intanto per il 7 giugno è prevista la ripresa degli incontri fra Aran e sindacati. Il percorso potrebbe essere lungo anche perché molti pensano che la firma del contratto in concomitanza con la chiusura estiva delle scuole non sarebbe ben accettata da docenti e ATA. Vedremo gli sviluppi quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it scriveteci mandateci le vostre osservazioni i vostri commenti noi ne daremo conto come sempre